Sia mille! Dunque, per trovare Danny il delfino, devo cercarlo in un posto con l'acqua salata, dove si muota e dove c'è anche del pesce. Dove posso trovarlo? È davvero complicato! Ma manca qualcosa! Cos'è che manca ancora? Sketch, perché non mi aiuti invece di disegnare fiori? È un luogo alto, freddo e con tanta erba! Dove posso trovarlo? È davvero complicato! Ma manca ancora qualcosa! Che cos'è che manca?